Musica Salve bella gente qui Gabby e dove siamo? Su Cube World Si finalmente ho ripreso in mano questo gioco E chi c'è con me? Si Ci sono le ali, sono una ranalata No, è lui, è il gufo Un pet stupendo Che ho preso sempre off camera e lì cosa sta succedendo? Un combattimento senza di me? Come osate fare un combattimento? Oh, degli elfi amici Ehi, ehi Qui c'è una rana col kimono che ha bisogno di aiuto Cosa avete da dirmi? Ah, sembra un avventuriero Grazie, grazie veramente Grazie, lo devo dire come una rana Grazie Non so come parlino le rane Ma ok, ma quanto bello È avere un gufo che ti segue ovunque Pensate che se io mi butto Giù da un dirupo, il gufo inizia A svolazzare, a planare Lui non si fa il danno caduta Peccato che non posso salirci sopra, non è un Pet montabile e quindi non posso volare in giro per la mappa E poi guardate Sta pure arrivando tramonto Sta arrivando sera Dobbiamo sbrigarci Perché l'obiettivo di questa puntata È raggiungere quel villaggio lì e magari battere qualche boss Voglio raggiungere quel villaggio Per il semplice fatto che ho ottenuto nuovi materiali off camera Intanto se notate sono a livello 5 Perciò siamo potentissimi ora Abbiamo raggiunto anche un nuovo bioma Chiamato le terre di curla Ed è un bioma Sembra paludoso Perciò troveremo anche nuovi nemici Spero di essere all'altezza Dato che a livello 5 Ora ho sbloccato una nuova abilità La bellissima abilità Di poter fare attacchi stealth Andando in giro così In punta di piedi Senza farmi scoprire E poi magari rubare No, non penso che si possa rubare ancora in questo gioco Tipo borseggiare alla Skyrim Ma andare in giro e fare magari attacchi critici stealth Pure il gufo Guardate che mi segue Guardate che mi segue dietro Vabbè No Un aguato Un aguato delle tartarughe qui Sono potentissime Mi hanno fatto fuori il gufo Maledette No Il gufo Ecco Io ogni puntata di Cube World la passo così Correndo con due tartarughe assassine Che mi tirano calci nel sedere E io mi tocca usare il mio super attacco Per un po' schivare Ah è rinato il gufo Dai distrai lì un po' E Ecco Lo sapevo Pure Il mostro verde Che mi segue Dai Magari ce la facciamo Dai quello voglio vedere quanto forte Dai Vieni su Vieni su Non ce la fa Ce la fai salire Mettiamoci la prova Questo si Questo è fattibile Siamo in due Dai Dai per favore Per favore Dai ce la possiamo No Ci lascio le penne Proprio Le penne di rana Che non esistono Ok ce l'ho fatta A sopravvivere Anche sugli alberi Mi segui No Malvagio Malvagio Perché la rana dal kimono bianco Deve sempre passare queste giornate Con tutto il mondo che ti insegue Pure il mosquito Dai Morirò Ecco Lo sapevo di morire contro il mosquito Perché il mosquito È così forte Che è leggendario Il mosquito Leggendario Vabbè Ci stiamo avvicinando però Al primo accampamento nemico E siamo anche abbastanza vicini al villaggio Perché intanto devo craftarmi alcune cose Di oggetti Ne ho fin troppi Ve ne mostro un paio Per esempio Qui Ho un sacco di formule Le posso imparare O devo andare da uno Mi sa che devo andare da uno al villaggio Un sacco di armature Poi che non posso nemmeno utilizzare Il boomerang è da ranger Se no L'avrei messo volentieri Vabbè però ho trovato uno spirito dell'anima Quello spirito L'ho sempre preso off camera E l'ho preso uccidendo Una pecora rossa gigante Ci ho messo mezz'ora Poi l'ho uccisa con le mie tecniche Alla capriola E magari con quello spirito Possiamo potenziarci la spada Ulteriormente Non credere che ti ho visto Cosa sono i beatles I beatles mi stanno attaccando La banda è completa Immagine the people Eh? Penso io A dittirti John Lemon Penso io John Lemon Ecco John Lemon Via 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 L'ultimo No no non posso morire Dai gufo aiutami Ecco il mio super attacco Oh ma questa rana quanto forte è È la rana più figa che c'è È la rana col kimono bianco Che spacca tutto Eh non trovo la rima per fare il resto Vabbè a me Tempo di una pausa Per recuperarci nel wine pure Guardate come mi guarda Con gli occhi sgranati Non riesci a comprendere Perché una rana Si mangi Dei Berry Dei berry Dei dolcetti alla berry Adesso senza farci scoprire Andiamo Dai dai guffetto No dobbiamo farci scoprire Perché sennò ci mettiamo un anno E siamo vicini al villaggio Dai Stacco un attimo E ci vediamo vicino A quel accampamento Durante il mio cammino Ho trovato questo goblin Ma se le sta prendendo Eh Se le sta prendendo di brutto Ma anche io Ma io sono più forte Dai adesso col super attacco Bye bye goblin Ti ho rubato i soldi I gettoni Magari li usavo Nella sala giochi Qua ci sono i gettoni giganti Mi attaccano le scimmie Aiutami le scimmie Le scimmie fortissime Lo sapevo Non dovevo mai fidarmi di voi Beh direi che ci siamo Sembra che il luogo Sia qui dentro Forse dentro questa caverna No Nelle vicinanze Comunque ci entro lo stesso Perché questo posto mi ispira Potremmo trovare dei minerali interessanti Per esempio questo ferro Però ha anche qualche nemico Ok stiamo attenti Magari andando In punta di piedi Per non farci scoprire Nessuno È libero No è chiuso questo posto Cos'è È chiuso E se usassi una bomba No Bene abbiamo raggiunto il posto Qualcuno mi sta attaccando Già Di già Aiuto Ok Questo l'abbiamo fatto fuori Bene Però io sto per morire Devo un attimo recuperarmi la vita Ancora Chi è che mi sta attaccando Bene Adesso che ci siamo recuperati Un po' di vita Proviamo A vedere Dov'è Il boss Cerchiamolo È pericoloso Andare in giro In questa foresta Dato che non vedo niente E non vedo Da dove mi arrivano Gli attacchi Poi questi alberi Sono inquietanti Sono i salici Piangenti Tipo Eccolo qua Lo vedo nella mappa Il teschio Lui è qui Vedo qualcosa qui Aspettate Sembra una specie di fortezza Con un super nemico Aspettate Provo a fargli un attacco stealth No mi ha visto È una spike creator No Aiuto Aiuto Non so se ce la farò Dai devo usare il super attacco però Quello si Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare No È morto È morto il gufo Non capisco più niente Aiuto Eh no Eh no I tuoi amici No No Cosa Quello in mano Aiuto Che arma Eh Ok Dobbiamo fare fuori anche il suo amico Oltre a lui Ah è rinato il gufo Grande Grandissimo Non ce la farò mai Non ce la faccio Non ce la faccio E quanti spike creator sa Aiuto no Niente Sono ancora troppo debole per questo boss Io fuggo Io fuggo Non ho un'altra scelta Mi dispio Mi sta seguendo Guardate che veloce È una roba assurda Ecco Ha fatto la giravoltola Mi ha ucciso Bene Sembra che sia entrato Nella zona villaggio Siamo vicini Questa Ah si Eccolo qua Il villaggio Bene La locanda Mi sa che mi faccio una dormita E aspetto che torni giorno È permesso Buongiorno Aiuto Mi fa prendere un infarto ogni volta Che parte quel suono Ah è tornato giorno No aspettate Così sono entrato nella locanda È automaticamente È tornato giorno Ah Stupendo Pensavo che dovevo dormire Invece no A quanto pare Se entri in una locanda Automaticamente ritorna giorno Cosa che non sapevo Ottimo Bene Quello che andremo a fare ora È andare dal fabbro È un po' cuocere i nostri minerali E poi potenziarci la spada Vedendo se posso aggiungerci Un'altra pietra dello spirito Vabbè Intanto mi sono craftato Un paio di cotone Fa sempre bene Ne ho 19 vai Quando sentite il tin Vuol dire che mi ha dato più oggetti Ecco Qua sembra che ci sia il fabbro Ok Proprio la fornace che cercavo Ora dovremo poter cuocere Tutto il ferro che ho Ovvero due pezzi Il legno Non ce ne ho tanto L'oro invece sì Ne abbiamo un po' Ecco Ah ecco Era un silver Ecco L'iron sì che ce n'è un bel po' Mi pareva strano Ok Ho abbastanza iron Ora andiamo nel workbench E modifichiamo la nostra spada Qui vedete Se tengo premuto la rotellina Posso girare la nostra spada In senso 3D Quel cubo lì È lo spirito È il fire spirit Che mi dà la potenza Posso aggiungerci Forse anche L'ice spirit Che ho preso Dalla pecora Allora proviamo ad aggiungerlo Magari Nel lato opposto Per esempio qui Ecco L'ho messo Ora Vedete Ho sia l'ice spirit Che lo spirito Del fuoco E posso E posso anche un po' Aggiungere anche dei blocchi Di iron Per renderla più bella Però io veramente Sono Sono un artista Negato Perché non ci riesco A farla come voglio io Ecco Forse Sto imparando Ecco Vedete Voglio fare una cosa così Sì Forse finalmente Mi sta venendo un'arma Abbastanza decente Piazza i blocchi così Ecco Ok Vabbè dai Proviamo A vedere Come L'ho tirata fuori Ecco Quella che ho dietro Adesso Non è la spada Che ho appena modificato Ma un'altra Che ho fatto una prova Prima off camera Adesso Rimetto la mia spada Qual era la mia spada Era questa Sì Ecco Ora Come potete notare La spada è molto diversa Non è il massimo Però L'importante è che Si sia potenziata No Vabbè Poi Se qualcuno di voi Può scrivermi come vendere gli oggetti Perché io avevo l'inventario pieno Infatti qui ho buttato via alcuni oggetti Insomma Vorrei venderli piuttosto Così Mi ottengo anche qualche Moneta Qua c'è un emo sulla panchina Salve E va bene Io penso che questo sia tutto Per questo episodio di Cube World Io Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando nei commenti Datemi qualche consiglio E noi ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao